Roberto Menotti, vice direttore a Spegna, buonasera, ben ritrovato sulle fonti. Buonasera, grazie, ben ritrovati. Ecco, innanzitutto le chiedo un parere sulle sanzioni che abbiamo visto ieri. Abbiamo sentito veramente tantissimi commenti da diversi analisti che sono sanzioni che fanno quasi ridere perché non hanno un impatto immediato sulla Russia. Poi per carità nel lungo termine ci sarà un impatto eccome, specie sulle banche e ovviamente il comparto finanziario. Però nell'immediato non cambiano nulla. Ecco, le chiedo un commento. Lei è soddisfatto da ciò che ha visto da parte dell'Europa e dell'Occidente in generale, includendo gli Stati Uniti? Credo che lei lo abbia appena detto. Il punto fondamentale è che le sanzioni non sono uno strumento che possono impedire un'operazione militare di questa portata che è già in corso. Le sanzioni militari hanno due significati fondamentali. Uno sono una condanna concreta, sono un modo concreto per condannare un'azione ritenuta illegittima, oltre che violenta. E poi le sanzioni sono un modo per indebolire l'avversario, naturalmente nel medio e forse nel lungo periodo. Io credo francamente che l'Occidente, che in questo momento è piuttosto compatto rispetto alle sanzioni, non so se avete notato con quanta attenzione sia il Presidente degli Stati Uniti, sia la Commissione europea, sia i singoli leader europei, stiano cercando di mantenere una linea concordata, con tutte le legittime differenze di situazione che ciascun paese dovrà affrontare. Ma si sta facendo un grande sforzo. Questo significa che noi rispetto alle sanzioni ci stiamo attrezzando per quella che di fatto è una nuova guerra fredda. Potremmo chiamarle in un altro modo, potrà avere degli sviluppi incerti e vedremo che andamento avrà. Questo è un ragionamento da fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però questo è il modo di guardare alle sanzioni, a mio parere. Per quanto concerne quindi il medio termine e certo non l'operazione militare in quanto tale. Poi è vero, e lei lo ha ricordato giustamente, che esiste una questione immediata su cui in qualche piccola misura le sanzioni potrebbero avere un effetto. Cioè il fronte interno per Vladimir Putin è comunque importante ed è molto delicato perché sembra dall'esterno di capire che comunque ci siano delle voci discordanti anche all'interno del gruppo più ristretto attorno al Presidente. L'opinione pubblica naturalmente non è particolarmente contenta di quello che sta accadendo. Mettiamola in questi termini, perché è difficile valutare con precisione l'atteggiamento dell'opinione pubblica russa. Però certamente, lei lo ha ricordato, anche alcune manifestazioni in strada ci sono state e questo non è poco nella Russia di oggi. Quindi anche da questo punto di vista le sanzioni economiche prefigurano un futuro difficile per l'economia russa. E questo non è assolutamente da sottovalutare. Poi naturalmente le considerazioni immediate sulle operazioni militari sono di tutt'altro tipo. È chiaro che lo stato in cui si trova l'Ucraina è di quasi disperazione. L'unica domanda, a mio parere, è l'unico quesito riguarda l'esercito ucraino. Cercare di capire cosa è in grado di fare e cosa sarà disposto a fare. Ma questo è un discorso di strategia militare, di tattica militare, non certo relativo alle sanzioni. È quello che l'Occidente può fare nell'immediato. Volevo chiedere, Recep Tayyip Erdogan ha sorpreso perché ha condannato la reazione dell'Occidente che è stata poco forte e soprattutto la reazione della Nato. A suo avviso doveva esserci qualche intervento, se non intervento, che è comprensibile ovviamente che per il momento non c'è un intervento militare, un sostegno in termini di beni di necessità, come potrebbero essere anche tutti i beni che usano i militanti, tutti i strumenti. Io credo che questa reazione del Presidente Turco sia interessante di nuovo, soprattutto nel medio periodo, per la Nato, per l'Occidente in generale, anche per l'Unione Europea in qualche modo. Era molto importante recuperare un rapporto più costruttivo con la Turchia. Non è il momento ora di ripercorrere la storia molto complicata del rapporto fra Turchia e Unione Europea e tantomeno quello del difficile ruolo della Turchia all'interno della Nato e il rapporto con gli Stati Uniti. Ma certo è che Erdogan non ha la coscienza a posto rispetto alla Nato né ha la coscienza a posto rispetto ai rapporti con la Russia, perché ha molto giocato su una libertà di manovra della diplomazia turca negli ultimi anni e lo ha fatto a dispetto di molti avvertimenti da parte dell'Europa e degli Stati Uniti dei rischi che stava correndo. Credo che sia un precipitoso ritorno indietro da parte del Presidente Turco anche perché ora vede un conflitto militare molto grave e massiccio alle porte di casa perché non dimentichiamo che appunto la Turchia è stata coinvolta già direttamente per la richiesta del governo ucraino, finché c'è un governo ucraino a Kiev quantomeno, cioè un governo legittimo, è stato chiesto alla Turchia di chiudere gli stretti perché naturalmente c'è un problema legato alle forze navali nel Mar Nero, dentro e fuori, ma soprattutto che potrebbero entrare anche dal Mediterraneo verso le zone delle operazioni. Quindi la Turchia si trova coinvolta a suo malgrado, giustamente Erdogan chiede anche delle azioni più dirette, soprattutto a sostegno in qualche modo dell'Ucraina, in vario modo e ci saranno anche degli interventi, ne sono certo, di tipo umanitario, ma di nuovo questo è un discorso che non impatta immediatamente le operazioni militari e in un certo senso se c'è un messaggio da dare alla Turchia è che avrebbero potuto pensarci decisamente prima. Ecco, semplicemente volevo capire, considerando la situazione attuale, lei come considera l'Europa e gli Stati Uniti? Perché a me danno l'impressione a due enti, due stati insomma molto molto deboli, possiamo chiamarli come preferiamo? Diciamo questo dal punto di vista delle operazioni militari è vero, nel senso che noi abbiamo un impatto collettivo come Nato, come Unione Europea, come Stati Uniti, Europa, ma anche se vogliamo come comunità internazionale, termini che abbiamo un po' tutti dimenticato, perché ci sono anche coinvolti in queste reazioni a livello per esempio di sanzioni paesi come il Giappone, non dimentichiamolo, c'è paesi alleati comunque degli Stati Uniti e dell'Occidente. È chiaro che c'è una debolezza di fondo rispetto all'operazione militare in quanto tale e questo era purtroppo da prevedere perché l'Ucraina non fa parte in senso stretto del sistema integrato di difesa occidentale, sebbene l'Ucraina in qualche modo abbia avuto certamente negli ultimi anni forti elementi di collaborazione per esempio l'Ucraina ha partecipato alle operazioni in Bosnia, in Kosovo e in Afghanistan, quindi ha avuto molti anni per collaborare con le forze armate occidentali, ma certamente non è un paese integrato in senso stretto e quindi non è un paese che poteva essere direttamente difeso nelle condizioni attuali, soprattutto vista la superiorità locale schiacciante delle forze russe. Quindi è vera questa affermazione che lei ha appena fatto, direi in termini immediati, però più ampiamente, in senso più largo, l'Occidente nell'insieme, tanto la Nato quanto gli Stati Uniti e l'Unione Europea quanto i singoli paesi europei hanno molti strumenti che possono utilizzare a medio e lungo termine per mettere in difficoltà la Russia, a cominciare dal fatto, non lo dimentichiamo, che le forze armate della Nato sono superiori a quelle della Russia. Noi lo dimentichiamo un po' troppo spesso, perché è evidente che in questo momento non stiamo parlando di una situazione articolo 5, quindi la Nato non ha attivato le sue capacità anche di rappresaglia e le sue attività offensive, sta parlando solo di attività difensive, ma lo può fare. Però io mi riferisco ad un'altra cosa, c'è la dipendenza di Europa del gas russo, ma anche del petrolio, nel senso questa è una cosa che la Nato, qualsiasi altra entità, non cambia e soprattutto non cambierà nel breve termine, considerando anche le politiche green che ha lanciato la Commissione Europea estremamente ambiziose, però per il momento perché l'Europa non reagisce in maniera più aggressiva nei confronti della Russia in termini di sanzioni, non stiamo parlando di conflitto militare, è il fatto che all'Europa serve il gas e le banche italiane, insieme a quelle austriache, insieme a tanti altri paesi, sono particolarmente esposti ai clienti russi. In termini di gas, non credo che la Nato o qualsiasi altra alleanza possa cambiare questo fatto che rimane per i prossimi anni? Certamente, da questo punto di vista che ci siano delle forti forme di interdipendenza con la Russia per alcuni paesi occidentali, in particolare per non fare nomi, Italia, Germania e Austria, soprattutto tra quelli più esposti è fuori di dubbio, è una forma di interdipendenza con la Russia, nel senso che noi compriamo e la Russia vende, quindi è interdipendenza, si tratta di capire chi sarà più disposto a pagare un prezzo, è chiaro che le nostre economie sono più forti di quella russa, quindi le nostre economie sono meglio in grado di assorbire i costi delle eventuali sanzioni, cioè è perfettamente vero che noi al momento siamo dipendenti dalle forniture russe, così come i russi sono dipendenti dalla finanza occidentale, italiana, tedesca, austriaca e dalle banche, cioè non dimentichiamo mai che l'economia in questi casi è chiaramente una forma di scambio, quindi noi siamo dipendenti nell'immediato dalle forniture e loro saranno dipendenti dal nostro denaro però, no? Certo, certo, a meno che non cambiano l'Europa con la Cina in questo senso e non trovano un altro cliente, se vogliamo usare questa parola, nel frattempo però le volevo chiedere se si è mai chiesto se ci fosse Trump come avrebbe affrontato questa situazione, perché Biden non è apparso un leader forte in termini di politica estera e non solo per quello che accade in Ucraina ma anche per quello che è accaduto in Afghanistan. Dunque, questa è una discussione che ci porterebbe molto lontano, cerco di sintetizzare al massimo, per quanto concerne l'Afghanistan, Biden a mio parere ha fatto un errore tattico molto grave, non ha fatto un errore strategico perché il ritiro era assolutamente inevitabile presto o tardi, direi presto, ha fatto un grave errore tattico nel modo in cui ha gestito il ritiro. Detto ciò, Trump aveva esattamente la stessa linea sull'Afghanistan, si sarebbe ritirato anche lui se i generali gliel'avessero consentito e se avesse avuto tempo, quindi non vedo particolari differenze tra Trump e Biden rispetto all'Afghanistan. Sulla posizione di forza in politica estera, a mio parere personale, la politica estera di Trump è stata assolutamente disastrosa, con l'unica eccezione degli accordi di Abramo in Medio Oriente, per il resto è stato un disastro completo che ha fortemente indebolito la posizione americana nel mondo, il prezzo lo sta pagando l'America di oggi e di questo Putin è perfettamente al corrente. Si può poi discutere sulla capacità di gestione di Biden in una situazione di crisi, a mio parere in questa situazione particolare Biden sta puntando su un elemento fondamentale, sulla creazione, sul consolidamento di una vasta coalizione internazionale, che non dimentichiamolo, è la lezione della storia che gli Stati Uniti hanno imparato dalla guerra fredda, hanno vinto la guerra fredda grazie a una coalizione internazionale molto ampia e grazie alla forza economica. Credo che Biden stia puntando su questi aspetti, è chiaro che ogni situazione è diversa, la storia non si ripete mai e quindi c'è ancora tempo per valutare le eventuali debolezze della politica estera di Biden, ma non mi sembra che nell'immediato il problema che stiamo affrontando dipenda da errori specifici fatti da Biden. Faccio un esempio, molti hanno commentato sul fatto che Putin avrebbe scelto di fare questa operazione in Ucraina a seguito del ritiro dall'Afghanistan, francamente mi sembra una sciocchezza gigantesca. Allora, intanto chiedo un'ultimissima domanda se si tratta comunque di una guerra lampo, secondo quello che ha calcolato Vladimir Putin e quali sono gli scenari in termini di conflitto militare in Ucraina da ora in avanti, dovrebbe essere una guerra lampo o può essere che gli ucraini possano cambiare i piani in corso, strada facendo? Questo è quello a cui mi riferivo prima, effettivamente dal mio punto di vista è la domanda fondamentale in termini militari, purtroppo le informazioni, lei l'ha ricordato prima, che abbiamo sono molto frammentarie, quindi secondo me non consentono di avere un quadro completo degli schieramenti, soprattutto delle forze ucraine, quindi non siamo in grado bene di valutare cosa sono capaci di fare nella situazione in cui si trovano. Probabilmente un fattore che sta rallentando in qualche misura l'avanzata russa, anche se io credo che siano ormai alle porte dei palazzi governativi di Kiev, è il fatto che i russi credo vogliono evitare soprattutto due scenari militari, uno è quello della guerriglia urbana, cioè non vogliono trovarsi a combattere per le strade delle città ucraine e questo è il rischio che corrono per esempio a Kiev, quindi lì credo ci sia un elemento di prudenza perché è forse una delle uniche situazioni, delle uniche contingenze in cui le forze ucraine sarebbero in grado quantomeno di opporre una certa resistenza. Il secondo aspetto che preoccupa credo i pianificatori russi è una guerra di retroguardia dietro le linee russe, diciamo una guerra di guerriglia qui non in ambienti urbani probabilmente, ma al contrario in campo aperto per così dire, ma dietro le linee che potrebbe più avanti eventualmente complicare molto i piani russi. Però sono entrambi i scenari un po' prematuri perché non è escluso che entro tre ore, sei ore, dodici ore noi potremo vedere la capitolazione delle forze ucraine, soprattutto nella capitale, che chiaramente cambierebbe tutto lo scenario. Come lei ha ricordato, non soltanto c'è stata una proposta, come dire c'è un elemento in cui si cominciano a menzionare dei negoziati, ma soprattutto Putin ha chiesto all'esercito ucraino di deporre il presidente Zelensky, quindi questo è uno scenario che guarda già forse ai prossimi giorni. Infatti ma c'è questo rischio che a suo avviso rimane? C'è che l'esercito ucraino abbandona Zelensky e come dire si mette da parte, fa una specie di colpe? Questo ecco, per quanto io possa osservare è impossibile valutare quanto sia probabile. Francamente non saprei se aspettarmi uno scenario del genere, è plausibile, è plausibile soprattutto in condizioni in cui, nella situazione in cui l'esercito ucraino fosse completamente schiacciato e non in grado di combattere. A quel punto potrebbe scegliere il male minore e quindi di fatto realizzare un colpo di Stato, magari proprio per non consegnare Zelensky ai russi, ma per farlo fuggire, ad esempio. L'esercito in quel caso sarebbe quasi un garante di una transizione disastrosa per il paese, ma se vogliamo pacifica senza uno spargimento di sangue ulteriore. Quindi è assolutamente uno scenario plausibile. Valutarne le probabilità però è impossibile, perché, come dico, dovremmo avere delle informazioni interne rispetto allo Stato della capacità di combattimento dell'esercito ucraino che al momento, credo, non abbiamo. Grazie mille, come sempre, a Roberto Mennotti, vice direttore a Spegna. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima, nel frattempo, buon weekend. Grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie. Grazie.